... Preordinari sali in tutti i reparti, sali e uomini, giuano dei tuoi sogni, in offerta speciale. Non fare un incandino con me e madri, che mangiare una ragosta in cene. Non c'è stare, sti bologhese di merda, prendi me. Tu lo sai cos'è la realtà virtuale? Hai mai visto i figli o non me? Io ho fatto la campagna del parlotto del cancer. Molto rieto. Navaglier Sabioni. Non c'è la mia vita. 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 a te lo prendo vai, vai, su, la sera ci vuole vai, vai, su, la sera ci vuole